Come sicuramente ricorderete, le immagini dell'invasione del Campidoglio degli Stati Uniti nel gennaio del 2021 hanno scosso tutto il mondo. Ed è proprio da qui che parte The Order, il nuovo film di Justin Kurz, il prodotto dalla Riff Ruff Entertainment di Jude Law, che qui si concede anche il ruolo da protagonista. Baffoni, aria di messa e accento americano, l'attore inglese è quindi l'agente FBI Terry Husk, specializzato in indagini su mafia e organizzazioni criminali che nel 1983 arriva nella cittadina di Metadine a Washington per indagare i suoi esponenti del suprematismo bianco. L'unico membro della polizia locale disposto a dargli informazioni è Jamie Bowen, interpretato da Ty Sheridan, che ha sposato una nativa americana con cui ha avuto due figli costantemente minacciati da razzisti locali. Così, grazie a una sua intuizione, i due presto capiscono che una serie di bombe lasciate in cinema a luci rosse e soprattutto diverse rapine a banche locali sono opera di un gruppo di neonazisti organizzati fondati da Bob Matthews, qui interpretato da Nicholas Holt, che ha fondato il famigerato The Order del titolo proprio per prendere d'assalto il paese e i soldi gli servono per creare un esercito. Presentato in concorso a Venezia 2024, The Order arriverà anche su Prime Video e sembra voler cominciare direttamente con il presente. E anche con un altro titolo presente a Lido. Nella serie M, il figlio del secolo, infatti il Mussolini di Luca Marinelli dice, guardando direttamente in camera, la democrazia è bellissima, ti dà un sacco di libertà, anche quella di distruggerla. Ebbene, le idee e i metodi di Bob Matthews ricalcano perfettamente quelli del Duce. Il suo testo di partenza è però il libro The Turner Diaries di William Luther Pierce, neonazista non che fondatore della National Alliance. Pubblicato nel 1978, viene fatto inizialmente passare come un racconto per bambini e invece teorizza la liberazione degli Stati Uniti da ebrei e persone di colore attraverso sei passaggi e l'ultimo è proprio la presa del Campidoglio. E non a caso, infatti, gli esponenti di estrema destra e sostenitori di Trump che hanno invaso Capitol Hill avevano proprio quel libro dalla copertina rossa infilato nella cintura. The Order si apre con la trasmissione radiofonica di Alan Berg, qui interpretato da Mark Maron, in cui lo speaker, dovendosi difendere costantemente da interventi aggressivi e razzisti da parte di antisemiti, dice che l'odio razziale è ciò che unisce i mediocri. Non potendo infatti prendersela con se stessi per la loro situazione infelice, cercano di dare un senso alla propria esistenza concentrando frustrazione e odio verso altre persone. E sono parole verissime queste che ritraggono perfettamente quanto accaduto e che purtroppo continuano ad accadere in ogni epoca in parte del mondo ogni volta che ebrei, neri, omosessuali o donne vengono aggrediti da parte di uomini bianchi violenti e ignoranti e che non conoscono altra risorsa se non quella della violenza. E sono tra l'altro il tipo di persone perfette da utilizzare per i propri scopi da qualcuno con un minimo di intelligenza e carisma in più, che si chiami Benito Mussolini, Adolf Hitler o Bob Matthews. E Kurzel è anche piuttosto bravo a presentarci quest'ultimo come un leader naturalmente carismatico, in grado di aizzare folle, sedurre donne e sovvertire l'ordine costituito, chiedendo a gran voce fatti invece che parole. Nicholas Holt è poi l'interprete perfetto per questa persona che si presenta come il ragazzo della porta accanto e che ha allo stesso tempo un lampo di luce sinistra negli occhi. Tutti i thriller e crime americani degli ultimi dieci anni non riescono proprio a staccarsi da True Detective. La serie creata da Nick Pizzolatto con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson continua infatti a fare scuola, e ormai è praticamente impossibile vedere un dialogo in macchina per le strade degli Stati Uniti che non ricordi i discorsi pessimisti dei due attori. Andy Order ad interpretare una variazione del personaggio di Rust Cole è appunto Jude Law in un ruolo abbastanza inedito per lui. Imbolsito, affaticato e stanco è infatti molto bravo nel ruolo dell'agente FBI che ha abbandonato moglie, figli e ogni forma di gioia per dare la caccia ai peggiori criminali del mondo. E nel seguire le sue indagini il regista è anche bravo a giocare con i generi, trasformando il film quasi in un western in cui tutto ciò che davvero conta è l'ebbrezza della caccia. Terry sembra infatti cercare più il brivido dell'inseguimento che fare bene il proprio lavoro. E forse è proprio questa l'essenza degli Stati Stati Uniti, un luogo bellissimo che però è stato messo sotto il proprio stivale dall'uomo bianco, aggressivo e violento, e che non riesce ad interagirci se non con la violenza e le armi. E voi invece che cosa ne pensate? Attendete The Order di Jotten Kursal con Jude Law protagonista? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.